si sta concentrando si sta concentrando si sta concentrando con una postura per stringere una Schneider sinistra rigolo che ha per l'interno dell'aria Grazie E' un po' l'asso soldi, praticamente fermo, in piazza praticamente fermo. E' un po' l'asso soldi, praticamente fermo, in piazza praticamente fermo, in piazza praticamente fermo. E' un po' l'asso soldi, praticamente fermo, in piazza praticamente fermo, in piazza praticamente fermo. E' un po' l'asso soldi, praticamente fermo, in piazza praticamente fermo. E' una della seconda regione, praticamente John Jockitelli, alla sua prima stagione, si opera di garantire la stabilità della formazione al centro. E' l'uomo che in questo momento di fronte a voi è circondato dagli altri otto velimoli. 9, quindi gli aeroplani, invirata di fronte a voi con lo sfondo del cielo, guarda la loro identificazione con il flou dei velimoli. della pattuglia acrobatica nazionale. Il resto della formazione che segue il numero uno, il Marco Lanter, alla virata, alla fine della virata e ti mostra quello che è il segreto di volo della pattuglia acrobatica nazionale, la distanza fronte di volo e l'altro. Le precedenti a voi si allontanano alla vostra manovra, è il collo. Ancora, Marcello Correa lascia il nuovo 10 del precedente a voi, sia lontano a sinistra, lascia lo spazio alla formazione per l'ingresso della pattuglia. Il capitano Stefano Cenzioni è il pilota della pattuglia acrobatica. Ci danno l'opportunità di individuare un'altra caratteristica nel volo delle frecce tricolori, la possibilità per i piloti di mantenere costante la formazione non avendo strumenti elettronici a porto. Tutto viene fatto a pista, tutto viene fatto con la testa girata letteralmente verso il delivolo, tutto in giro al proprio aeroplano, mantenendo i domandi di volo in costante movimento per mantenere la posizione. Formazione a destra, pubblico, pubblico per noi, attenzione al centro, di nuovo il tonno e poi subito dopo una stretta virata che lo porta in allontanamento dalla zona di volo. Via, il metodo, il numero 4, il numero 5, il prezzo tricolori del piatto, cioè da 5 e 4, a centro, ora 3, e questo numero 5, 4, ancora una rotazione, abbiamo trovato lo cito a raggiungere, la fase finale, circa 50. La linea dell'orizzonte, il leader comincia a ruotare il proprio pericolo, potete riconoscere riconoscere adesso i caschi dei piloti, quindi giù dal massimo sulla formazione, pronti alla foto, ora! Ci scusiamo tantissimo per il rispetto, per non essere riusciti a mostrarvi quello che è il volo più bello della battuglia che sta del Maggiore, Simone Cavelli che è scoperto per lui, in questa virata Schneider, allo massimo, le stazioni del velivolo, accelerazioni in questo istante a bordo dell'NP319, che raggiunge il meno 3 giti e mezzo, per da sempre, vento lentamente con i 3 giti e mezzo, per da sempre, vento lentamente con i 3 giti e mezzo, in generale, il volo della formazione sullo terza arriva, aspettate un attimo a fotografare, lasciatelo girare nel cielo, ancora un secondo, pronti per la foto di 3 giti e mezzo in questo istante, ora! Per noi, configurazione di atterraggio e non finisce qui, alla vostra sinistra il tonno sull'asse, che conclude la manovra per dimostrare la manicivolenza e la manovrabilità dell'aereo mobile, vogliamo farci sentire l'azionista del procedimento di aria che si tratta noi, via! Grazie! 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 Grazie!